salve amici mi sto facendo la maschera ai capelli come andiamo a vedere tra amici e parenti spesso mi chiedono come faccio ad avere capelli lunghi belli morbidi curati facilmente pettinabili fino alle punte seppure colorati vi svelo un antico rimedio di famiglia che io uso ancora tutt'oggi dal risultato eccellente ed uso questa maschera una volta al mese apro un uovo e ne estraggo il tuorlo aggiungo mezzo cucchiaino da tè di miele mescolo accuratamente fino a quando il miele è completamente sciolto lascio riposare poi preparo mezzo cucchiaino da caffè di olio extravergine di oliva se avete capelli corti basterà anche solo un quarto di cucchiaino da tè se invece avete una folta a chioma usate tre quarti del cucchiaino da caffè spalmo l'olio sul palmo delle mani e lo passo sui capelli ancora asciutti fino alle punte lascio aderire due minuti sciacquo con abbondante acqua asciugo con tovaglia da bagno lavo usando il mio shampoo ma voi potete farlo con quello che di solito usate sciacquo tampono con tovaglia da bagno prendo la miscela dell'uovo la spalmo sui capelli aiutandomi con il cucchiaino distribuendola con le mani sul resto della chioma lascio agire per 10 minuti sciacquo accuratamente asciugo con tovaglia da bagno alla fine immergo i miei capelli nel balsamo io uso il mio fatto in casa ma voi potete usare il vostro solito torno a sciacquare con molta acqua tamponare con tovaglia ed asciugare al fono alla fine ecco il risultato capelli sani, lucenti, belli, curati facilmente pettinabili fino alle punte grazie amici per aver guardato il video ciao alla prossima Grazie.